benvenuti in questo nuovo video, ci troviamo nel vlog di Barcellona e mi trovo sull'autobus che mi porterà al porto di Civitavecchia, ci vediamo lì beh ragazzi ora mi trovo al porto di Civitavecchia dove mi imbarcherò per Barcellona quindi da questo punto inizia il vero e proprio video la vacanza ha inizio stai in R5 su Clash Royale Ciao a tutti ragazzi siamo tornati, questa è la mia cabina sono qui con due miei conoscenti, un mio amico, questo è il mio letto, si è molto piccola, qui c'è il bagno praticamente questa è tutta la cabina domani inizieremo a registrare seriamente quando andremo in hotel comunque devo ammettere non è tanto bella ragazzi, ora ci troviamo nel mattina sono con il mio compagno di stanza Gianmarco ciao ragazzi non ci sto a chiapare, si e ora abbiamo appena fatto colazione, ci siamo lavati e ora andiamo sul ponte, giusto? si ma prima fega andiamo al baretto eh certo fega raga una cucina pastivo beh ragazzi, sono arrivato a Barcellona, questa è la stanza d'albergo salutate e salutate adesso i miei compagni di canale ciao ragazzi Jacopo Gianmarco abbiamo un televisore, il problema è uno lui adoperà un programma di canale 5 siamo in spagna, c'è la mediaset video per me non c'è differenza tanto io la tv io dormo eh eh allora abbiamo l'aletto matrimoniale, questi due eh grazie e io singolo perchè sono dopo solitario no? poi qui abbiamo il bagno oh percorso ho chiede tanto eh eh quest'ultimo pezzo di video saranno morte 12 persone per l'attacco equilettico eh eh questo bagno troppo è come ça ca eh 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 ah raga nel... nel... nel vlog le vedremo delle belle ah raga manca il... manca il testo del letto Manca il testo del letto Che cavolo Oh ma Ma è bellissimo Ma ragà Ma il nostro più morbido Il nostro più morbido ci sono ritrochi Delengono D'aglio temperato Cioè il nostro è più morbido Vabbè ragà Ora ci rilassiamo un po' Ho messo il Gianmarco Finici di fare i bagagli Perché lui Ma il mio è morto va Ma è morto va Questa è la valigia di Jacopo Cioè ragà Io sono un metro e ottanta no Quasi Mettila un attimo Ragà Lo stiamo scherzando ma Enorme Per non parlare di quanto è l'aria E io gli volevo dire Aia Cioè dovremmo stare cinque giorni Nemmeno Sto zindo Ecco Dolore Ma ragà salutate Che stoppo il video Già adesso Ciao ragazzi Buonanotte Notte Ma secondo te Loro si mettono a guardarlo A quest'ora Che sono esattamente le 22 e 31 del giorno 20 Aprile Del 2016 Ciao 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 Ma saluta bene Ciao 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 Saluta Questa volta sto registrando Questa la metto Questa la metto Ciao Dai Inquadrami Con me Prendi 100 lati Ciao Lepati Sto registrando Ossia Come potete notare Ragazzi Questo è un esempio E allora perché mi vieni col defliano Questo è l'acquario L'acquario ha vinto Quello vedeve è un granchio Inquadro il granchio No Come no No Questo è un esempio Di uno stupido Deficentus Deficentus Giacomis Saludate Ciao 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 Io non sto facendo il video Si Si sta facendo Ah sta facendo il video Ma che ne ho gusto Perché Perché Che poi io la metto Saffilo Raga Raga Io io posso Saffilo Sai che è un pezzo Che persone Quando sentono sti versi Ma chi c'è Ma chi c'è C'è un animale Che fa Ma raga Io adesso stacco Che se no C'è Giacomo Che fai Ho ripreso il putto Io sono io Ci sono questo Io sono il putto No Buon Hier Saffilo Mi fa E' vero Un Perché C'è Grazie a tutti. 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 per due motivi. a tutti. 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 a tutti.